ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video è un video molto particolare come assaggiamo perché ho trovato qualcosa che penso di non aver mai visto perché si tratta di questa bevanda qui questa bibita qui al crisantemo vi faccio vedere da vicino la lattina in realtà c'è stato qualche piccolo problema con il trasporto quindi un po schiacciata ma la faccio comunque vedere vedete appunto che c'è il fiore del crisantemo appunto è un prodotto thailandese e anche tra gli ingredienti vedete che ci sono solo acqua zucchero ed è stato di crisantemo all'un per cento se volete vi potete anche guardare i valori nutrizionali io direi di andare ad aprire e ad assaggiare sperando di non averla agitata troppo forse non è nemmeno frizzante il profumo in realtà sembra quello del tè al limone tipo l'estate tanto per capirci vedete che non si allontana molto dal colore del crisantemo appunto è un liquido giallino ed effettivamente non è nemmeno frizzante direi assaggiare all'inizio sembra davvero di bere del tè in realtà poi andando avanti ha un sapore un pochino più amaro quasi sembra veramente di bere dei fiori è veramente strano in realtà non riesco nemmeno a capire se mi piace in ogni caso ve lo consiglio non sono cose che fanno effettivamente vomitare quindi ho bevuto veramente di peggio per questa rubrica se volete andarvi a scorrere qualche video fatelo pure mi consiglio magari il video della sarsi che anche solo al musandola ho quasi rinnesso la pelle quindi se lo trovate potete fidarvi a berlo e a provarlo è una bibita un po particolare appunto se volete appunto provare qualcosa di diverso dall'ordinario quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like qui sotto e condividetelo con i vostri amici se non siete iscritti iscrivetevi e magari attivate anche la campanella in modo tale da non perdervi i futuri video che carico in genere una volta a settimana se avete provato questa bibita fatemi sapere se immediatamente avete avuto la mia stessa impressione qui sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social in cui potete seguirmi nelle mie avventure noi ci vediamo al prossimo video e la nice life